Cosa succede quando la finanza incontra il Web3 e l'intelligenza artificiale? Nasce ACT.io Piccola parentesi, dal video potrai guadagnare in modo assicurato da 0 a 200 euro, quindi guardalo fino alla fine. Oggi voglio parlarvi di una banca online che ha adottato il Web3 e l'intelligenza artificiale in modo nativo. A differenza di conti come Revolut, N26, che ad esempio possono bloccare il conto perché magari hai solo fatto una transazione con le cripto oppure perché hai fatto qualche transazione strana, questa banca è nativa con le tecnologie crypto, Web3 e intelligenza artificiale. Ha un algoritmo di intelligenza artificiale per un investimento automatico e vediamo tutto questo nel video. Quindi se siete interessati a una soluzione unica per gestire le vostre transazioni in queste nuove aree di innovazione come il Web3 e l'intelligenza artificiale, guarda questo video. Ma prima di guardare il video mi raccomando lascia un like, un commento e iscrivetevi al canale se siete interessato a temi simili. Adesso andiamo dritti al video. Ed eccoci qui ragazzi, in primis vorrei farvi capire che questo qui, Act.io, è un progetto molto serio. Ho incontrato Kevin Regis, direttore operativo e direttore della Compliance per Act.io, alla Blockchain Week Rome. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e insomma sono una startup molto solida che sta operando in maniera diciamo molto effettiva nel mercato europeo. Tra l'altro in maniera prevalente nel mercato italiano. Quindi ecco, voglio fare questa precisazione dicendo che è un progetto serio. In questo video andiamo a vedere in prima cosa una piccola analisi iniziale di Act.io, poi fondamentalmente andiamo a vedere la loro carta, poi andiamo a vedere un po' cosa sono questo crypto decrypted, poi andiamo a vedere la cosa più interessante, no, andiamo a vedere gli asset che supportano, la cosa più interessante è l'algoritmo di intelligenza artificiale, che tra l'altro ce ne sono due gli algoritmi. E poi ragazzi, vi lascio l'intervista direttamente con Kevin che mi ha gentilmente concesso il suo tempo così che vi può dare delle chicche, delle chicche straordinarie sul futuro di Act.io. Incominciamo con l'overview. Allora vediamo qua fin da subito da questo screenshot che è effettivamente una banca. Il design è molto accattivante, possiamo direttamente farci allocare il nostro stipendio oppure possiamo mettere delle somme che noi riteniamo opportune nel nostro conto. E ci sono dei tassi di interesse su alcuni prodotti molto interessanti che poi andiamo a analizzare. Andiamo a analizzare la carta. Che cos'è la carta? È una carta, una carta Visa, tra l'altro ragazzi è bellissima, metallica, molto 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 accattivante, ma non solo è bella è anche molto efficace. Nel senso possiamo tranquillamente utilizzare le nostre cripto per pagare la cena, eccetera, tutte le varie cose. E non come N26 Reulut che magari fa delle transazioni in cripto e ti blocca la carta e ci sono amici che gli hanno bloccato i conti con 50-60 mila euro e non gli erano sbloccati. Questa è la vera e dura verità. Ok? Quindi con questa carta, essendo questa banca nativa con le tecnologie Web3 e l'intelligenza artificiale, non abbiamo di questi problemi. Paga costi, abbiamo l'Iban, possiamo fare il bonifico e tante altre cose ragazzi. Possiamo tranquillamente virtualizzare la carta nel nostro mobile oppure nel nostro smartwatch tramite appunto servizi Google Pay e Apple Pay. Quindi ragazzi, questa qui è la carta. Andiamo veloci a vedere effettivamente cos'è Crypto Decrypted. Allora, grazie a questo conto puoi comprare direttamente le cripto senza che porti i soldi fuori su un'altra piattaforma, qua, su e giù, direttamente alla tua banca puoi acquistare cripto. E non solo puoi acquistarle, ma hai anche un'analisi di un team di esperti interno. Questa analisi si basa appunto sempre su un algoritmo di intelligenza artificiale di Market Sentiment che va a, per ogni cripto, vedete questo potenziometro, andare a analizzare questa cripto. Ci dice, ma questa cripto sta salendo, è neutra oppure sta in qualche modo andando verso un declino e ci crea questo appunto indicatore per in qualche modo darci un'indicazione per entrare nel nostro investimento nel momento migliore. E poi c'è questo emosso futuro, Market Minds, quindi offre analisi di meglio periodo fatta appunto da esperti interni per aiutarci a comprendere effettivamente come e quando entrare. Quindi se effettivamente non siete esperti in analisi tecnica, analisi fondamentale ai mercati cripto, questo è uno strumento molto molto interessante. Se volete in qualche modo utilizzare, essere voi a investire sulle determinate cripto e diversificando un po' il tutto. Ma se voi non volete investire, e attenzione queste sono le cripto ragazzi, ce ne sono veramente tantissime. Se voi non volete investire, è qui la parte fondamentale ragazzi, c'è un algoritmo di intelligenza artificiale che andrà in maniera automatica a diversificare il rischio investendo in cripto monete. Ok? Quindi abbiamo questo autopilot che non è altro che un algoritmo di intelligenza artificiale, poi ragazzi restate fino alla fine perché con l'intervista con Kevin c'è una piccola chicca. Ok? Che andrà direttamente a allocare i nostri asset in maniera automatica, completamente gestita, ok? E diversificata e tra l'altro se vede che qualcosa non va in modo automatico riequilibrio. Quindi giorno a giorno vende, compra, fa questo, creando dei interessi molto interessanti. C'è un trading appunto algoritmico, ma di intelligenza artificiale, c'è la competenza umana sotto e ovviamente è un prodotto diciamo sicuro. Ragazzi ci tengo a dire che questi non sono consigli finanziari, mi riporto a dirvi quello che è, insomma. Quindi questo qui io reputo un prodotto molto, ma molto interessante per diversi motivi. Perché ci risparmia il tempo, se non siamo esperti ci dà effettivamente qualcosa che vogliamo, magari ecco, vogliamo andare a lavorare su questi mercati, non sappiamo come fare, no problem. Se invece sappiamo come fare oppure vogliamo direttarci, c'è sempre appunto il Crypto Decrypted che ci daranno gli indicatori e ci dice guarda meglio entrare adesso, dopo, eccetera. Ora, un'altra cosa molto interessante di Act, appunto io, sono i Volt. Allora ragazzi, ci sono degli interessi molto, ma molto interessanti. Perché abbiamo appunto questi Blockchain Volt che hanno dei guadagni del 6%, dell'8%, ce ne sono diversi, ma poi ne introducono sempre di nuovi. Che cosa sono i Volt? Una complessa tecnologia Blockchain che offre interessi giornalieri e possiamo prelevare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a 0 commissioni, ok? Quindi abbiamo Volt con diversi guadagni annuali, alcuni al 6, alcuni al 7, ne ho visto anche uno al 20% che è relativo al mining. Qui ci fa effettivamente una simulazione di quanto possiamo guadagnare, eccetera. Vediamo Volt in arrivo, non so se vedete. Quindi ecco un altro, un'altra, diciamo, interessante modo per investire sono i Volt. Quindi questi prodotti ragazzi offrono dei tassi di interesse che le banche tradizionali se le scorta. Detto questo, adesso vi lascio all'intervista con Kevin, però prima voglio in qualche modo dirvi che se volete potete effettivamente iscrivervi a Act.io tramite il link in descrizione, piuttosto che il link del primo commento, riceverete da 0 fino a 200 in maniera randomica euro in valore in Act.io, che sono la loro cripto, che possiamo per giunta subito trasformare in euro, se effettivamente volete trasformarla in euro. Però io non ve lo consiglio perché poi ci sono anche dei piani interessanti di staking, quindi mettete, bloccate gli Act.io e avete un ulteriore guadagni. Fatemi sapere se volete queste informazioni, ve le lascio nel canale Telegram. Adesso andiamo dritti all'intervista, così facciamo parlare Kevin e vedete effettivamente un po' il tutto spiegato da lui. Act.io noi andiamo a rivoluzionare il mondo della finanza, andando a mettere insieme la finanza, quella che chiamiamo finanza tradizionale, con la finanza digitale, tutto il mondo cripto. Come funziona? Un cliente da noi crea un conto corrente, gratuito, con un IBAN dedicato e una carta di pagamento Visa gratuito, in 5 minuti. Quindi tu ti crei un conto in 5 minuti, hai un IBAN dedicato, hai una carta di pagamento Visa legata a questo IBAN, dopodiché puoi fare un bonifico su questo IBAN che ti è dedicato. Una volta che i tuoi euro sono sul conto, sull'universo Act.io, hai tutto un mondo di opportunità che si apre. Abbiamo sviluppato una marketplace molto easy dove puoi andare a comprare più di 100 criptovalute diverse. Per ogni criptovaluta che è proposta dentro la nostra app, andiamo anche a educare i nostri clienti su cosa è questa criptovaluta. È bellissimo di proporre delle criptovalute e di poter comprare una criptovaluta, però secondo noi è anche un po' meglio capire cosa sto comprando e cosa c'è dietro questa criptovaluta. Abbiamo sviluppato per chi non sa cosa comprare, non sa cosa vendere, quando comprare o quando vendere. In un mercato dove la volatilità è sempre più importante, abbiamo sviluppato quello che chiamiamo il portafoglio criptodiversificato. Quindi un cliente può andare a depositare i suoi soldi che dormano sul suo conto e investire direttamente in un click i 22 criptovalute diverse scelte dai nostri esperti interni, che vanno a scegliere queste criptovalute, ma anche a monitorare queste criptovalute nel tempo. E con una feature che si chiama, e che è una tecnologia nostra, che si chiama l'autopilota, questo portafoglio va a poi cambiare e adattarsi al mercato ogni giorno. Quindi questa è la seconda funzionalità. Quindi se non voglio fare io un po' di trading, posso lasciar fare Act.io questo trading per me. La terza parte è quello che noi chiamiamo Volt. È un modo semplicissimo per la gente di andare a depositare i loro soldi, il loro denaro, che va dopo a essere messo sulla finanza decentralizzata, sulla cosiddetta DeFi, così da poter creare un rendimento giornaliero su questi euro. Quindi poi, quotidianamente, ricevo i miei interessi del giorno, che posso dopo andare a spendere e pagare il caffè con la mia Visa, Visa Wells Card, per esempio. Quindi hai veramente questi tre pilastri, che sono molto facili d'uso ed accesso, grazie a questo conto IBAN dedicato e questa carta Visa di debito, dove puoi andare su tutto il mercato Visa. L'app è disponibile su Lapper Store, Android Store, eccetera, da marzo 2022, abbiamo già più di 300k download di questa app, tantissimi clienti attivi e la cosa molto importante e molto interessante è che il nostro primo paese d'uso è l'Italia. Quindi l'Italia, primo paese in termini di clienti, anche se siamo disponibili su tutta l'Europa, su tutta la zona d'Europa. Ma l'hai detto benissimo, questo IBAN ti è dedicato, quindi se vuoi ricevere lo stipendio, se vuoi pagare l'affitto, se vuoi, non lo so, mandare soldi ai tuoi amici, eccetera, oppure pagare qualcosa con la carta di debito, lo puoi fare, è tuo, sia l'IBAN sia la carta. Tantissime persone mi chiedono, Silvio, investi in cripto, cosa investire, cosa non investire, dico a tutti i ragazzi, se non avete in mente cosa investire, su cosa investire, la cosa più facile è quella di diversificare il rischio. Allora la seconda domanda, come diversifico? Trovo molto interessante la vostra proposta di appunto sia Volt che diversificazione, che va in qualche modo a dire, ok, tieni, questi sono i miei soldi, analisti interni molto esperti che dovresti pagare centinaia e migliaia dollari se li vuoi al tuo servizio, invece fanno tutto il lavoro per te. Questo portafoglio criptodiversificato è molto interessante per chi non ha tempo o chi non ha magari la conoscenza di andare a dire io scelgo questa criptovaluta piuttosto di un'altra, ma c'è anche qualcos'altro perché posso scegliere una criptovaluta, posso scegliere magari dieci per andare a diversificare il mio rischio, ma poi devo andare a monitorare questo rischio, devo andare a monitorare questo portafoglio, quindi magari collegarmi ogni mattina, ogni pranzo, ogni sera, eccetera, eccetera, per andare a monitorare e prendere le migliori decisioni per me. Con questo portafoglio diversificato, già creato e già monitorato dai nostri esperti interni, con un po' di aiuto anche di intelligenza artificiale, questo si fa automaticamente per il mio cliente, quindi senza neanche muovere un dito, questo portafoglio va a vivere, va a crescere, modificarsi secondo il mercato, secondo la volatilità del mercato. E poi per uno che ha bisogno di questi soldi a livello immediato, lo può mettere in questo vault dove i denari sono sempre a disposizione, quindi se vado al ristorante, per esempio stasera, non devo ritirare prima, due, tre giorni prima, eccetera, no, lascio i miei soldi lavorare fino all'ultimo momento, ritiro i miei soldi al momento del conto, dove so esattamente di quanto ho bisogno, pago con la carta di debito, subito, immediatamente, senza neanche una commissione sulla parte vault, né di entrata, né di uscita, niente. Quindi sempre a disposizione e gratuito sia l'andata che il ritorno, quindi se penso ho bisogno di soldi, poi alla fine no, possono tornare nel vault gratuito. Attivamente nel canale mi sto particolarmente interessando di intelligenza artificiale, mi hai detto che ci sono dei algoritmi che vanno a lavorare sulla diversificazione, come funziona? Puoi dirci qualcosa così? Sì, sì, non posso dirti tutti i dettagli ovviamente, però la filosofia dietro quella la posso dire perché è anche molto importante. Ad oggi questo portafoglio diversificato, portafoglio cripto diversificato, è, diciamo, solo la prima versione di quello che arriva domani, che è una cosa completamente pazzesca. Quindi già cosa c'è oggi? C'è questo portafoglio cripto diversificato, con 22 criptovalute, gestito dai nostri esperti interni, ma sono aiutati da un programma di intelligenza artificiale, creato proprietaria nostra, quindi veramente è stato creato dai nostri esperti fin dal 2017, perché il progetto act.io, se è su e-stores da marzo 2022, in realtà è un progetto sviluppato da 2017 da Londra. Quindi noi usiamo l'intelligenza artificiale per, come dire, andare a migliorare la scelta umana dietro. Quindi noi abbiamo fatto la scelta di non lasciar fare l'EI al posto nostro, che, l'abbiamo visto con diverse storie di Black Swan, cose del genere, a volte può andare a, su alcune, diciamo, condizioni di mercato, può andare a fare magari errori. Quindi noi non vogliamo, non abbiamo fatto la scelta di lasciare gestire l'EI, ma abbiamo detto, ok, andiamo a usare l'EI per andare a migliorare la scelta umana dietro. Però la scelta è sempre umana dietro, su questo portafoglio cripto diversificato. Poi, ti ho detto questo che c'è oggi nell'app, è la prima versione che è già disponibile, è vero. C'è una seconda versione, che arriva anche fra po' nei prossimi mesi, dove questo portafoglio cripto diversificato verrà diversificato secondo il profilo del cliente. Quindi ad oggi, sull'app, il tuo portafoglio cripto diversificato, se vuoi usare quello di Act.io, sarà lo stesso del mio, ok? Però domani sarà diverso, perché tu magari hai una visione del rischio diverso, hai un obiettivo diverso, sia nel tempo, sia nell'obiettivo di guadagno, eccetera, eccetera. Quindi secondo un livello di rischio, secondo un obiettivo, avrai un portafoglio cripto diversificato completamente diverso da magari il mio, o quello del tuo cugino, del tuo amico, eccetera, eccetera. E questa nuova versione, che stiamo sviluppando adesso, e che sarà disponibile nei prossimi mesi, si chiama il Wealthbot, che è veramente una cosa di cui lavoriamo dal 2017, che è, diciamo, il prodotto, è la formula 1 del prodotto che noi sviluppiamo dal 2017. Dunque ragazzi, se siete interessati, passate nel link in descrizione, al primo commento, e se accedete tramite quel link, potete appunto avere una somma da 0 fino a 200 euro. Creare il conto, ragazzi, è semplicissimo, ma se avete problemi, io lascio a disposizione, fatemelo sapere nei commenti, oppure nel gruppo Telegram. Detto questo, Silvio Luchetti, Offline.